Non ce l'ha fatta, l'operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella giornata di venerdì scorso. È morto ieri sera al Policlinico Umberto I di Roma, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Il dramma era caduto in Viale Ionio, nel quartiere Montesacro della capitale. L'uomo, quarantenne, stava lavorando al piano terra ed era, a quanto pare, regolarmente munito di casco, quando per cause, ancora in corso di accertamento, è stato colpito alla testa da una lastra di marmo staccatasi dal balcone del quinto piano, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. L'operaio era stato a soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale, dove era stato ricoverato in prognosi irriservata, ma nonostante i tentativi del personale sanitario, non è stato possibile salvarlo. Il cantiere era stato subito sequestrato. Sul posto era intervenuto anche l'ispettorato del lavoro sull'incidente. Indagano i carabinieri della stazione di Roma, Città Giardino.